va dalla bandierina proprio l'ex del Chelsea parte Dallabona in area Domizzi e Napoli in vantaggio con Maurizio Domizzi e il gol che può valere la Serie A per il Napoli 1-0 e qui è stato bravissimo andare incontro a questo pallone tagliato di collo interno calciato dall'angolo di Dallabona e lui l'ha girato sufficientemente appena appena per trovare l'angolino alla sinistra